C'è uno che continua a lasciato bannare Non so perché Semma fel in sprint Il feloni Lì chiamo il video perché Vai prova a chiamarlo e sentire se adesso è sciato bannato va Vai chiama il feloni vai Il numero dai al limite se non ti rispondi ti ho girato anche quello di casa l'altra volta No non c'è più il numero Vuoi venire per non giocare zio a fare un po' di qua attenti va che ci beviamo Non ce l'ho più il numero Scrivi tu Dario Vuoi essere iscrivito Ho quello di Ivan se volete Sì Giuro giuro me la dottorevano Beh li sto chiamando Ivan dai No non chiamare Ivan zio dai Chiama Chiama al massimo felon lo facciamo venire a giocare con lui Dai dai lo chiamo dai Gli mando un audio anzi scrivo Stai chiamando tu Dario? No io No chi è che stai chiamando tu? Non sarai chiamando mica Ivan zio Vabbè Elon Pronto? Pronto? Ivan viene a fare i quartetti siamo io Leo e Dario dai Dai Zio ma veramente hai chiamato Ivan? E gli hai detto che siamo un uomo Grazie fa cavo parlando Grazie bro gentilissimo Però ti hai messo a ridere dai Bro comunque sei un coglione dai stava dormendo c'è anche il figlio magari hai svegliato il figlio Dici ma stava ridendo Eh stava ridendo perché ovviamente era mia Però c'è Stava ridendo ma non ti ha chiuso il telefono in faccia in 3,2,1 Ah finisimi con la terra Diano finisimi con la terra Stava ridendo No ragazzi Eh zio mi hanno chiuso uno l'ho scopato e mi hanno chiuso Infatti quando ho sentito quella voce troppo grossa ho detto Mico ma questo non è il fel Comunque la voce di Tripp ha modificato quella di Ivan Ah no aspetta Perché Tripp ha un modificatore di voce quindi gli era appicciata ancora più in basso E che infatti era cavernosa quella di Ivan a livello Eh bro che noi abbiamo sentito la chiamata di Ivan Ah ok ok Quindi se doppia già Ivan c'ha la voce grossa Più quella di Ivan è venuta fuori C'è la voce modificata di Ivan c'ha una voce da mostro Oh no era Pronto Brava Brava Grazie che attrazzone Eh ragazzi però sto facendo una kill E' roba da pazzi comunque Ivan c'ha la mamata mezzanotte Eh infatti Fino a fare una quartetti Sì.